Temete la rimonta di Berlusconi? No, noi pensiamo che gli italiani abbiano imparato la lezione. Dopo tanti anni di governo di Berlusconi, oggi lui torna in campo annunciandosi come un giovanotto che per la prima volta si presenta alla prova del governo. Berlusconi ha governato per 20 anni e oggi le sue responsabilità sono chiare a tutti gli italiani.